Buonasera amici, fateci sentire un po' di chiasso! Grazie amici, grazie di cuore, stasera solo per voi volevo presentarvi Gigi Kamedda! Salutate Gino Marielli da parte mia! Il nostro Nicola Nitte! Grazie per essere venuti, grazie per averci voluto, per noi... Quante volte abbiamo suonato qua G? Un paio almeno! Tante volte, eravamo sotto in castigo, abbiamo suonato anche da poco, significa che ci vogliono bene! Ci hanno dato le chiavi della città, per noi è un piacere e un onore tornare qui, tornare qui con questo nuovo progetto, diciamo. Qualcuno di voi forse si ricorda che l'anno scorso avevamo in mente e nel cuore di riportare alla luce il primissimo lavoro dei Tazenda, che era il disco Tazenda, magari ve lo ricordate, in copertina c'erano Gino, Gigi e Andrea dietro una bellissima finestra e quello è stato il primo lancio, diciamo, della grande musica rock popolare. Subito dopo i Tazenda hanno pubblicato un capolavoro che si intitola Murales e noi non potevamo esimerci perché, in quanto il primo è stato particolarmente difficile, Murales è stato assolutamente una sfida. Abbiamo riportato i suoni originali di quel disco e la scaletta originale, per cui vediamo come va. Godetevi lo spettacolo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!